Grazie mille Siamo un po' sattivi Abbiamo iniziato col conto Da poco ci si vediamo Eccoci Assegriamo Bene, l'energia di sicuro è un male cast Grazie mille Grazie ancora Prosezziamo con il prossimo coro Le Anna Degeneres Che sono le vincitrici della prima edizione del ContiCortel 2014 Siete vinti con un po' La Way in the Water di Mass Tiles Ci accogliamo un palco Ora c'è il video che prenderà il gruppo E la prima cosa è una nuova Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!